Sindaco Costantini, allora c'è in questo momento molta apprezzione sui contagi che stanno interessando soprattutto la costa terramana. Questo fatto che Giulia Nova non sia nel gruppo è una fortuna, è una bravura, può cambiare tutto? Oppure che cos'è? Perché non ci siamo nel gruppo questo? Innanzitutto dobbiamo continuare a fare attenzione, dobbiamo sensibilizzare più i giovani che purtroppo in questo momento stanno risentendo di più di questi momenti a casa senza contatto. Siamo fortunati, siamo stati bravi, stiamo continuando a lavorare per contenere il numero dei contagi. In questo momento siamo tra i pochissimi comuni della provincia di Terramo, costieri non in zona rossa, ma bisogna continuare a lavorare in questa direzione. Mi complimento con il personale dell'ospedale di Giulia Nova perché comprendete bene che con due reparti Covid all'interno la probabilità di contagio esterno dall'ospedale è altissima e loro sono veramente straordinari e bravissimi perché hanno scongiurato fino ad oggi questa possibilità. Tu comunque hai dato ordine alle porte della loro, soprattutto ai tuoi vigili, di aumentare i controlli, soprattutto nel fine settimana e questo è avvenuto. Siamo riusciti a fare le quattro assunzioni temporanee dei vigili urbani e appena siamo riusciti a farle abbiamo dato, abbiamo visto che nei pomeriggi del sabato e della domenica c'erano delle situazioni abbastanza preoccupanti e siamo intervenuti subito, sono state anche delle ordinanze a seguito di alcuni controlli fatti dai carabinieri di Giulia Nova, che ringrazio, forse l'ordine stanno tutte collaborando. Si sta lavorando in quella direzione, però il percorso è ancora molto lungo e quindi dobbiamo tutti quanti iniziare a prendere coscienza che purtroppo non siamo fuori da questa problematica, dobbiamo continuare a vaccinare, siamo pronti per fare il richiamo agli over 80, siamo pronti appena l'alto, lavorare la disponibilità di vaccino a vaccinare le categorie fragili e fino a quel momento naturalmente bisogna continuare a fare tantissima attenzione. L'anno scorso tu eri famoso in questo periodo per gli appelli restati a casa, è possibile, Sindaco, che dopo un anno ci ritroviamo uguali oppure è cambiato qualcosa in meglio, se si può dire così? Diciamo che è cambiato tutto perché noi tre anni, un anno fa, non conoscevamo il virus, quindi lo stare a casa era determinante per capire cosa stesse accadendo e qual era il modo per difendersi. Oggi lo sappiamo, lo conosciamo, ma sappiamo anche che la luce è vicina e quindi dobbiamo aspettare con pazienza il nostro turno, come sto facendo io, come sta facendo lei, per il nostro vaccino che sarà la luce e io spero che anche con il cambio di governo e con un cambio di strategie riusciremo da qui ai prossimi mesi a far vaccinare più persone possibili e perché il nostro comune che vive di commercio, di turismo, di ristorazione, non può più sopportare un periodo come questo, quindi dobbiamo stare attentissimi alla salute pubblica ma continuare a dare speranza con i ristori e con i vaccini. Grazie. 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 Grazie.